La prova del cuoco. Mille foglie con vaniglia e gocce di cioccolato fondente La mille foglie alla vaniglia e gocce di cioccolato fondente è stata il dolce di oggi alla prova del cuoco. Come spesso accade nel co-walking show di R.I.C.U., Salderiso è stato il protagonista della puntata del venerdì. Il pasticcere partenopeo ha chiuso la settimana nel programma condotto da Antonella Clerici regalando una ricetta dolce e deliziosa. Un dessert classico della tradizione culinaria italiana, arricchito dal cioccolato fondente e da un ripieno goloso e originale. Gli ingredienti necessari per preparare la pasta sfoglia del dolce di oggi sono. 500 g di burro a placche, 7 e 5 g di malto, 10 g di sale, 250 g di acqua e 500 g di farina. Per la crema pasticcera al cioccolato bianco e vaniglia servono. 40 g di infuso di vaniglia, 200 g di cioccolato bianco fuso, 1 bacca di vaniglia, 400 g di burro fresco e 1000 g di crema pasticcera. La prova del cuoco, 13 aprile. Ricetta della millefoglie alla vaniglia per preparare la millefoglie alla vaniglia e gocce di cioccolato fondente realizzata oggi, 13 aprile, alla prova del cuoco da sal de riso iniziare dalla pasta sfoglia. In un'impastatrice versare. La farina, il malto, l'acqua, e il sale. Lasciare riposare l'impasto mezz'ora in frigorifero, e poi incorporare il burro. Stendere l'impasto sul piano di lavoro, e al centro posizionare il burro. Chiudere la sfoglia e lavorare con il mattarello. Lasciare riposare altri 30 minuti, quindi ripetere il procedimento 5 volte. Adagiare poi la pasta pronta su una teglia con carta da forno, bucherellare con una forchetta la sfoglia e cuocere a, 170 gradi per 55 minuti. Nel frattempo preparare il ripieno. In un'impastatrice versare. L'infuso e i semi di vaniglia, il burro e il cioccolato bianco. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, aggiungere la crema pasticcera un due o tre tempi. A questo punto comporre il dolce. Creare quattro strati di pasta sfoglia e farcirli con la crema alla vaniglia. Dopo ogni strato di crema, aggiungere dei pezzetti di cioccolato fondente. Decorare l'ultimo livello con la farcitura, e dei pezzetti di pasta sfoglia. Oltre al dolce presentato oggi da sal de riso alla prova del cuoco, gli appassionati di pasticceria, possono realizzare anche la torta pere e zenzero di Anna Moroni di ieri. Un dolce gustoso e ricco di proprietà perfetto per allietare la tavola. .